Io credo che tutte le squadre, non ci sono solo io, va bene il mio lavoro una volta si è visto più in campo ma devo ringraziare al nostro staff, a tutti i giocatori, veramente tutti siamo molto gravi e abbiamo andato a giocare questa partita che si è stata tosta, questa volta per il nostro lato e che posso dire sono molto contento perché veramente la Supercoppa rimane con noi e adesso dobbiamo andare a guardare il campionato. Tenendo presente che ancora abbiamo il nostro capitano in panchina a guardare le vostre performance davvero eccellenti insieme a Russo quindi quando la squadra sarà il completo forse gli altri si dovranno preoccupare. Secondo me quando loro termineranno avremo l'opportunità di fare meglio il nostro allenamento perché avrà tantissima confrontazione tra noi ma quella confrontazione è molto buona così possiamo fare una squadra più forte e poi farci vedere sul campo. Chiudiamo nel dire Leone, un periodo davvero difficile con questo Covid però questa vittoria fa capire che lo sport continua una grande organizzazione come quella della GS Forum qui da parte della Lega quindi avanti tutti, sperando che un giorno i palazzetti siano davvero pienissimi. Sì, infatti volevo ringraziare alla Liga, anche a tutti i tifosi che hanno arrivato oggi che qua veramente sappiamo che è stato un momento molto difficile con la situazione del Covid ma questo non ci firmerà mai il sport noi portiamo l'allegria e l'energia a tutti voi e voglio fare, dedicare questa vittoria a tutti che avete stato di qua e a quelli che avete guardato sulla TV perché veramente lo meritate voi. Grazie molto a tutti.